Avevamo detto e oggi siamo qui, iniziamo subito perché come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale oggi un grandissimo attore, dai, dell'italiano che comunque ha veramente aglietato tante giornate di tante persone stiamo parlando di? Di Christian De Siga Grandissimo I cinepanettoni ovviamente per me sono nati anche... Allora tu sei giovanissimo ma di qualche giorno fa, di qualche settimana fa il quarantennale, l'anniversario di Vacanze di Natale, il primo dei Fratelli Vanzia Una cosa meravigliosa, straordinaria, ancora quelle battute che vanno avanti non solo di Christian De Siga, di Gerry Calà, di Claudia Mendola della grandissima e bellissima Carina Aff prematuramente scomparsa insomma un film iconico, straordinario del 1983 Tu sei nato nel? 83 Hai visto? Quindi insomma io avevo qualche anno più di te e quindi lo ricordo benissimo Però per me è un grandissimo Christian De Siga E allora iniziamo subito con l'oroscopo musicale Bentornati a tutti all'oroscopo musicale Sempre sotto il segno del capricorno a Roma nasceva un grande attore comico regista, showman famosissimo per i cinepanettoni a Roma nasceva un grande attore comico Nel 1951 nasceva Cristian De Sica, figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell'attrice spagnola Maria Mercader. Il fratello maggiore era Manuel De Sica, apprezzato compositore di colonne e sonore. Finito le scuole di superiore al liceo, dove era compagno di banco di Carlo Verdone, Cristian De Sica parte per il Venezuela in un albergo per lavorare e lì inizia i suoi primi passi da artista. Inizialmente attratto dalla musica, nel 1972 entra come cantante nel gruppo La Pattuglia Azzura, di cui faceva parte anche Massimo Boldi. L'anno seguente partecipa al Festival di Sanremo con il brano Mondo mio, ma i risultati non proprio soddisfacenti lo convinsero a dedicarsi al cinema. Infatti fu proprio il papà ad affidargli una piccola particina nel 1973 nel film Una breve vacanza. Contemporaneamente alla carriera cinematografica, Cristian De Sica sviluppò il ruolo di intrattenitore televisivo. Dopo aver collaborato con Sergio Corbucci e Carlo Vanzina e con Carlo Verdone, De Sica fu protagonista con Geri Calà e Marina Suma in Sapore di Mare. Il successo al Bottechino fu notevole. Nello stesso anno, Cristian De Sica torna al fianco di Calà e del giovane Claudio Amendola in vacanze di Natale, primo cinepanettone. Da allora, Cristian De Sica è la figura simbolo dei cinepanettoni. Cristian De Sica si era distinto per la sua notevole capacità di recitazione e fu proprio nei riparenti che, firmato un contratto con la Fil Mauro, lo ingaggiò assieme a Massimo Boldi e così diventarono la coppia simbolo dei cinepanettoni. Nel 1990 Cristian De Sica esordisce anche come regista con faccione, ottiene la candidatura al David Di Donatello come miglior regista esordiente e nel 1991 dirige e interpreta il conte Max, omaggio al cinema del padre e di Mario Camerini, da lui interpretato con Ornella Muti, Anita Egber e la mamma Maria Mercader. Dopo la separazione artistica nel 2006 con Massimo Boldi, Cristian De Sica torna nelle sale con un nuovo cinepanettone, dal titolo Natale a New York. Oltre a ruoli comici, De Sica ha anche recitato in vari ruoli drammatici, anche insieme a Johnny Depp e Angelina Jolie. Lo vediamo anche a condurre striscia alla notizia con la grande Michelle Hunziker. Sempre a fianco della bellissima Michelle Hunziker lo vediamo anche nel programma di Zellig. Nel 2018, dopo 13 anni di separazione, Cristian De Sica torna sul grande schermo assieme a Massimo Boldi, con un nuovo film dal titolo Amici come prima. Ci sarebbe veramente da dire tantissimo altro di questo grande artista, ma chi è che non lo conosce, grande Cristian De Sica? Quindi voglio andare sulle sue curiosità. La prima curiosità è questa. Precedentemente fidanzato con l'attrice Isabella Rossellini, dal 1980, è sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone. Un'altra curiosità ed è questa. Uno dei suoi grandi idoli è Fran Sinatra, che ha avuto modo di conoscere durante un viaggio di lavoro insieme a suo papà, Vittorio De Sica. Ha rilevato di aver sofferto di problemi economici con sua moglie Silvia, per via dei debiti di gioco del suo papà, il grande Vittorio De Sica. È stato nominato cittadino onorario dell'Isola di Capri e anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspettiamo in tantissimi domani. Un bacione da me, Silvia. Ciao!